Ma che c'hai? Le note con tutte le rime che... Fantastico, incredibile. Ma ti segni tutte le frasi che trovi in giro? Mi segno le cose che mi vengono in mente e che mi interessano. Mi regali un momento così, proprio friendly. Cioè fai così, no fai così. Fermi il dito e leggi quello che trovi. La mattina mi guardo allo specchio e non mi piace ma mi lavo lo stesso. Che hit. Che hit. Regala questo momento di scrolling così, quello che è. Magari spunta un IBAN, magari spunta una rima. Una hit che mi sono annotato un paio di giorni fa è perché prima di andare ad abitare su altri pianeti non potremmo finire di ammazzarci su questo. Eh ci sta. Concessore. Cosa l'hai sentita o era tua? L'ho sentito... ricordo. Ok. Sono cose che mi interessano. Assolutamente sì, perché poi danno la chiave anche per svilupparci attorno a un pezzo.